La Camorra è tornata e dunque per questo io non posso accettare, anche per il buon nome di San Giovanni e di Napoli e per il buon nome di tutti i quartieri della nostra città, non posso accettare che per un euro, per dieci euro, si violenti la Costituzione. Il voto libero uguale, la dignità delle persone.